Ciao a tutti, sono Leonardo Rasso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento a Roma, zona Bocea Casal del Marmo, esattamente in via Vignale. L'appartamento è posto al secondo piano di una palazzina di quattro piani dotata di ascensore e senza servizio di portineria. Grazie a tutti. Attraverso una porta blindata entriamo nell'ampo ingresso dell'immobile. Tramite il corridoio è possibile accedere al soggiorno dal quale, attraversando un'ampia porta finestra, si raggiunge il primo dei due balconi dell'immobile. E' presente una cucina abitabile. Servita dal secondo balcone dell'immobile. Sempre tramite il corridoio si raggiunge una prima camera matrimoniale. Una camera doppia che può ospitare due letti singoli. E la terza camera, anch'essa matrimoniale. L'immobile è dotato di due bagni, entrambi con finestra. E la terza camera. Un'altra camera. E' da un utile Ripostiglio E' presente l'aria condizionata Abbiamo visitato un interessante appartamento di 120 metri quadri Ubicato in una palazzina edificata negli anni 80 L'immobile è dotato di grada antintrusione e di riscaldamento autonomo Alimentato da caldaie a gas Ha come pertinenze un box auto di circa 20 metri quadri Le spese condominiali ammontano a circa euro 70 al mese E la rendita cadastrale è di 1605,15 centesimi La categoria cadastrale dell'immobile è A2 Se vuoi vedere foto, video e planimetria di questo interessante appartamento Puoi visitare il nostro sito www.lrmobiliariroma.it Oppure seguirci su tutti i nostri canali social LR Immobiliare è il lato a casa In buone mani Ciao